3 dicembre meno 22 a natale 22 giorni a natale 3 2 1 go buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati qui con il nuovissimo video questo video si tratta di un nuovo video calendar esatto e anche oggi abbiamo qui il nostro piattino come lo chiamiamo? chiamiamola stilla christmas christmas oh magic christmas magic christmas lo chiamiamo magic christmas hashtag magic christmas e quindi niente ora apriamo tutti i calendari partiamo sempre da quelli lì che comunque hanno sempre la stessa roba il stesso valore io cado i pippi ok allora partiamo da miraculous il numero 3 eccolo pure sempre un cioccolatino però io vorrei vedere la canella che ti guarda l'alè non la l'alè fa una cosa non la far vedere e li vediamo tutti insieme no no facciamola vedere perchè che bell'è la canella che carino un'esatto io faccio questo qui e li vediamo vabbè uguale e 4 non lo direi dove ci scaviamo e il 3 il 4 è vabbè il 3 1 2 3 4 chiama il contatto 5 6 7 8 Natale rock, Natale rap, Natale rap, lol surprise, e a Natale, a Natale si può fare di più, per noi, a Natale poi, 3, 3, 3, 3, 3, 3, numero 3, fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere quel tempo, sempre uguale, sempre uguale, andiamo al 3 di Babbo Natale, che sinceramente questo ce l'ha diversa, però è uguale, io incomincio a trovare il 3, perché qui è uscito una specie di pacco e regalo, ok, apro io, e andiamo a vedere, e anche a me penso che, puoi vedere? Yes, quasi uguale, vabbè uguale, e allora andiamo ai pezzi forti, Kinder, casetta Kinder, arriviamo a te, sorprendici anche oggi, perché, sì, numero 4, 3,结se, 2, 3, 3, 3 eccolo, il 3 sarà un po' diverso, perché lo vedo, piccolino, secondo me è un ovettino, indovinato, è bene un ovettino, piccolo, piccolino, vado io e prendo sempre con la cioccolatesca cioccolatino cioccolatino e vediamo se mi escono sempre gli stessi oppure meno vado che devo vedere numero 2 no zitta si infatti uscirò no ma che fai dai ferma Giulia ma non riesce da perdere Giulia no lo stai distruggendo ma che fai ma che fai così non ci apri così un cane da nulla bene dai no no Giulia questa la voglio io vabbè guarda sei tu e Milko ah è tu oggi è sempre il sol è il come si chiama zon 28 no l'indoggio dai premio il cioccolate è questo qui ok mio mio allora andiamo avanti e prendiamo questo qui iiii allora a noi ci serve il numero 3 tro 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 eccolo eccolo qua sempre la stessa forma può essere un'altra barretta ebbè sì questa volta un mars quindi ragazzi a parte che sono troppo belli questi qui vabbè ma noi io allora io con l'arribo cioè io l'arribo è la barretta che si gutta la giochiaaa allora qui c'è zitta eccolo qua non sapere cosa stai pensando ora che gli occhi chiusi del fatto che sbaglio e il suo sorriso messo come il culo bocca di pinto pu.? qua parte lo ello tempi mi струк Ma bot l'ottima salire incontri tu p si ma me chiuso ma si le enta vino ho avuto un calendario o non hai tre? non hai tre quale calendario con non hai numeri? se ne avete mai troppo che bello una bellissima oh mamma io secondo me la rompo però una bellissima barretina che kinder milka è bellissima cioè è bellissima mancano due gialli voglio sapere dovremmo dipendere in bocca a te giulia finisci la grazia dai giulia abbiamo un po' di cosa? cadia hai fatto male? ok io invece vorrei 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 essendo che sono piccolini ne approfitto di mangiare tutti e due non approfitto di mangiare due no no perché questo è grande e quindi tu non lo puoi prendere ti sa cos'è questo questo? date un voto allora cioccolatino della Lind esiste infinito si tra i due qual è il tuo preferito e giulia tra i due qual è il tuo preferito è secchissimo è secchissimo è secchissimo non le manate tanto non le manate tanto non le manate tanto diventate eccezioni non le manate tanto non le manate tanto non le manate tanto ok raga non mi piace mangiamo questo? no te lo vorrei mangiare non le manate tanto ma questa allora comunque questo 10 questo 8 e mezzo ora del voto anche a questo perché è troppo bello guardate la scuola che mi ha messo guardate guardate ho confatto la buccacchicca un'altra crema sarà tipo a nostoline è pura è giù a questa barretta gli piace anche a lei mi ha dato 19 e richiedo anche in questo anche io questa volta l'acqua per favore a me no a me ma pure a giù le serve terzo giorno di seguito che mamma porta l'acqua fai in giro babbo mamma ok sta scendendo l'acqua nel pozzo il must per ora queste barrette che stanno uscendo diciamo che l'unica cosa forse l'ho assaggiato è appunto una cosa del M&M's però non l'assaggerò oggi ma l'assaggerò magari domani no devi aspettare dobbiamo fare questo tag che vi ciò pure se non ci piacciono dobbiamo assaggiare questi fatti qui tu qual l'hai preso? l'orsetto allora apri il pacco no Giulia no Giulia non si fa bene scusate buono no è normale veramente mi piace ok quindi raga che vuoi? questo era il video spero vi sia piaciuto appunto vi aspettiamo domani se non oggi con un video extra ma domani con altri con altre giornate da aprire cioè domani con il numero qua ascondo la mia bocca la mia bacia e quindi niente 3 2 1 go quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto hanno piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghejuliacawaii vi ricordo che io marghe amore puro se vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale conditelo dappertutto se non vi è piaciuto grazie a tutti